oggi andiamo in guerra a riva del garda tutte full è una pronta è quasi questa è la piazzettina quella quella giustata sistemata a me da forza beh bel posticino direi che dire bella strada eccoci a puntalarici adesso ci andiamo qua giusto credo di no andiamo a vedere questo posto piace ecco arriva del garda posticino più isolato puntalarici e raggiù noi siamo scappati su questa semi punta più solitaria più selvaggia adesso cargo facciamo scendere d'acqua passo rocchetta puliti fuori belire sempre il rago di garda un po il life motive di giornata esplorare qui cosa c'è la linea alta per lui attenzione curva un po inaspettata questa è quella che ha fatto in salita andrea diciamo che come stare avanti bello consumativo grazie 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 Alla prossima Mamma mia! Salve, grazie! Mamma mia! Bravi, bravi! Mamma mia! Bravissimo! Che fa il gaccio! Che fa il ritmo, bravo! Signore! Attenzione! Se già a momento incastro! Grazie! 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 Ciao! 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 Radicioso! Mi ha scattato qui! L'ho capito! Skinny, guardalo Signori Per skinny degli dei Ma è meglio andare dentro Eh vabbè Io sento cargasecca alle mie spalle C'ho una paura Te l'ho detto che non devi venire lì Ah ecco perché tu sei La tecnica Ho anche la pianta Bravo Io non sono incappato Permesso Porca piteria Grazie Ah io qua non lo so se lo faccio Io forse non lo faccio Esatto E' un po' com'è Sto incastrato lì Ok si fa Grazie Grazie Andiamo a vedere questa trotina E' spaccatino E' spaccatino E' complicato Complicato Qua adesso Solo di qua Eh si Esatto Sì E' abbastanza rognoso Ok devi andare dritto sulla roccia Eh ma Cioè Non mi fido di andare qua Capito E' abbastanza rognoso Ah E' un po' qui Ah Ah E' abbastanza rognoso E' abbastanza rognoso beh qua è ovvio si passa sulla pietra dove vuoi passare se no inizio a accusare a scuola a scuola passaggio del tubo più che della trono si si passa lì dai ok si si passaggio hyper difficile guardalo che linea aggressiva linea cattiva vai massimo attenzione grande massimo super skinny signori arriva andrea grande signori andrea lina cattivissima che cattiveria ok vediamo se lo chiediamo questo passaggino della trota si chiude ma era una cagata sembrava molto peggio c'è tanto griff qua quindi c'è tanto griff qua quindi ho fatto la sua linea eh questo è il strato più pericoloso di tutto il giro percare di attraversare la strada in un punto questa non hai questa è il piede non c'è più niente ok ce l'abbiamo fatto andiamo di là bella bella